I recenti fatti di cronaca hanno fatto sì che ci fossero una serie di commenti tra i quali i suoi su Facebook su questi accadimenti nella maceratese. Che considerazioni possiamo fare? Quello che ha fatto Traini è un gesto inqualificabile, vada punito, vada in galera perché chi spara sulla gente non ha nessuna giustificazione. Detto questo, la cosa che mi sembra più interessante e grave dal mio punto di vista è che molta gente considera Traini quasi un Robin Hood. Cioè una persona che in qualche modo ha dato una risposta sbagliata, negativa a quello che volete, però di fronte a un fatto la gente vede tutti i giorni le strade invase, e lo vediamo anche a Fano, strade invase da spacciatori, da gente che vive senza fare nulla, che vive di espedienti. Il caso di Macerata ha sconvolto questo signore, perché già di suo evidentemente non era molto a posto, ma l'ha sconvolto, però quel fatto di Traini ha fatto passare in secondo piano nell'opinione pubblica un fatto gravissimo, mai accaduto. Cioè una ragazza violentata, pare, uccisa, pare, squartata, sicuro e messa in due valigie, abbandonata per strada con un pacco, ad opera di sicuro un gruppo di uno o più signori che non dovevano stare qui. Ecco, quando andremo al governo i clandestini pregiudicati vanno a casa, senza sé e senza mai, il modo si trova. L'accoglienza diffusa, prospettata da Minniti e dal suo governo, è un progetto fallito, riuscito, modificabile, cosa si può dire a questo libro? Guardate, l'accoglienza come tutte le cose umane ha dei limiti. Allora, chi viene qui per lavorare e vive onestamente, il nostro fratello, ricordo un dato che pochi sanno, il paese europeo che ha più immigrati è la Svizzera, quasi un residente su quattro è straniero. Però lì entra chi lavora, la gente per bene, priorità nei lavori agli svizzeri, serve un fabbro, se c'è uno svizio, prima lo svizio e poi lo straniero e quindi quella è un'immigrazione buona. Tutti questi signori che noi troviamo spesso e volentieri, andate a vedere nel sale giochi, stanno tutto il giorno con le macchinette, chi gli dà i soldi me lo chiedo. Chi non viene qui per non fare niente o non è profugo? La comunità più numerosa, ad esempio i nigeriani, non risulta che c'è nessuna guerra. Addirittura vengo dal Bangladesh, che è la guerra che c'è in Bangladesh. Abbiamo in Italia quasi 14 mila tra tunisini e algerini e marocchini, mi dite quali guerre ci sono in Tunisia e Marocco. Allora questi non sono nei profughi, sono semplicemente i clandestini che vivono gli espedienti. Con questi se andremo al governo non ci sarà nessuna comprensione a casa, senza se e senza ma.